Signor Coretti, lei si applicato? Sì. Eh, non sembra. E no, perché proprio questi sprematozoi non vogliono vincere. Qui non c'è cittiveria. C'è proprio lo sguardo della tigre in questi semini. Semini? La temperatura basale l'avete presa? Certo. Ma come ho detto io? Sì. Sicuro? Sicuro. Me lo rispiego. Tenta, dottoressa, guarda che non siamo mica scemi. Ma no, non c'è la piattaforma, ma gli sprematozoi, ma non ci sono piuttosto dati di semini. Eh, secondo me a questo punto vi consiglierei tre quattro giorni alla banca del seme. Sì, per un buco. Lo sai che io al tuo posto non farei tanto lo spiritoso? Senta, dottoressa Frenzi. Castani, Frenzi. Senti, Castani, Frenzi. Lo sai che senti come un giro in macchina e io ti tiro sotto? Tieni giù le mani in porta di quella piuttosto. La stai spiegando gli uomini. Dove cazzo sei su questo posto di merda? Mi spero che facciamo quella segretaria, no? Amore? Vabbè perché ti devo ripagare? Vaffa il culo, vabbè.